La parola al tecnico della Turris, un bilancio questi giorni di allenamento, oggi naturalmente l'amichevole contro gli amici dell'equip, cosa c'è che va e cosa non va in casa Turris? Va il fatto che comunque ci stiamo allenando tanto e i ragazzi comunque sono tutti quanti predisposti al lavoro, veramente devo fare un grandissimo applauso ai miei ragazzi che si allenano nonostante il caldo, nonostante siamo partiti anche un po' in ritardo, quindi abbiamo dovuto un pochino accelerare e anche fare qualche seduta un po' più lunga proprio perché dovevamo recuperare qualcosina anche a livello tattico. Non va, penso che è normale che tutti siamo all'inizio della preparazione, all'inizio del nostro cammino domenica ci sarà la Coppa Italia, quindi è anche normale che ci sono delle cose da vedere, da fare e quant'altro. Niente, per quanto riguarda la partita di oggi credo che abbiamo fatto un ottimo test contro giocatori importanti perché comunque quando si affronta questa squadra di questa selezione di Aic sono sempre giocatori che tra virgolette disoccupati ma anche molto molto validi, qualcuno non si è messo d'accordo per problemi economici, qualcuno non ha accettato la categoria, qualcuno vuole ancora la Lega Pro, quindi è normale che tu giochi contro i giocatori quantomeno veri, veri ed esperti. Noi abbiamo fatto secondo me una buona prova sotto l'aspetto dinamico, come dicevi prima tu e come ho detto io bisogna ancora lavorare ancora tanto. Una parola per Antonio Trovato, gli amici dell'equipe campagna ci chiediamo davvero quanto prima, tutti possono trovare una destinazione però onore a me da questa squadra che la metà luglio si allena con serietà, con professionalità, è davvero l'ideale come sparring partner per tante squadre perché grazie a questi amichiboli, grazie a questi test che vengono fuori, i pregi e i difetti, a mio avviso che ben vengono i difetti tra virgolette in questa fase per poter uno intervenire, vedere voi tecnici dove poter apportare quelle migliorie in visto in un campionato difficile come quello il Gironi H. Sì, Antonio tra l'altro oltre a essere in Gambissima è stato anche un mio giocatore quindi figuriamoci veramente c'è un grandissimo rispetto e grandissimo affetto. Poi tra l'altro non dimentichiamoci che comunque noi abbiamo preso due giocatori da loro, Guastamacchia e Improta e forse forse ci sta anche qualche altra cosa che abbiamo visto quindi è sicuramente un'ottima iniziativa e un ottimo bacino per tutte le squadre che magari come noi sono partite un pochino in ritardo. All'esterno si ammira la tifoseria Corallina, la sta vivendo dall'interno con il loro sostegno con il loro affetto, con il loro incoraggiamento. Il tuo pensiero è essere sostenuti da un gruppo numerosissimo di amici, di federissi che mi sostengono e si parla qui di calcio, Torre del Greco sette giorni su sette vuol dire motivo di vanto per voi che magari li guidate alla macchina ma soprattutto per chi scende in campo è una maglia che pesa. Sì, indubbiamente, io ho sempre detto, ho detto anche all'inizio della presentazione la Turris e i tifosi con i Corallini sono l'uomo in più per noi. Io quando venivo anche da a calciatore, a venire a giocare qui a Torre del Greco, magari in campionati importanti come il C1 e quant'altro, ho sempre pensato che fosse un campo non facile da giocare e sempre è stato così. I tifosi davano quella carica in più agli avversari. Io spero che la nostra gioventù, la gioventù della mia squadra, li faccia prendere a cuore tutti i giocatori in modo che possano dare una mano importante a questi nostri calciatori che ne hanno bisogno proprio perché per il fatto di essere tantissimi giovani, se vediamo il secondo tempo c'erano due over in campo, 95-96 e poi tutti erano tutti 98-99 in campo. Quindi sicuramente noi dobbiamo avere un aiuto da loro e da parte mia e della squadra possiamo dire solamente che noi cercheremo sempre il massimo di sudare questa maglia che penso che per loro è importantissimo questo. E se loro ci danno una bella mano, non facilmente, ma cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo che è ovviamente una salvezza tranquilla quest'anno. Grazie, un grandissimo bocca al lupo da parte tutta la redazione sportiva di Sport Even. Grazie, grazie a voi.